Siamo in una situazione particolarmente critica per tutte le emergenze che ci sono a livello di guerre, in particolare le due grandi guerre che sono sostanzialmente alle nostre frontiere, perché anche il Mediterraneo è immediata la guerra di Gaza. Su questo di solito il dibattito è tutto di natura politica, è chiaro che la componente politica è prevalente quando parliamo di guerra, però nello stesso tempo è riduttivo non affrontare tanti altri aspetti che sono collegati, in particolare quello umanitario, cioè le conseguenze tragiche degli scontri bellici sia in Ucraina invasa dalla Russia sia a Gaza dopo il massacro compiuto da Hamas e la reazione giudicata da molti sproporzionata ad Israele, ma in ogni caso in tutte e due le situazioni le principali vittime sono proprio i civili. Quindi questo richiama anche la necessità di allargare un pochino il discorso oltre di chi è la colpa, di chi è la responsabilità, chi è stato buoni e cattivi, non perché non ci siano aggressori aggrediti, ma perché non è sufficiente a spiegare perché questa, tecnicamente dicono gli psicologi, la coazione a ripetere, cioè la spinta continuamente a replicare dei comportamenti di fronte a certe situazioni di emergenza, sei sfidato da qualcuno l'unica possibilità è quella di prendere le armi e attaccarlo o difenderti se sei attaccato. Ecco, dal punto di vista sociale ci sono anche altre dimensioni oltre quella politica che andrebbero esaminate, quella psicologica, quella culturale, sono tutti fattori che affrontati per tempo possono dare anche addito a delle possibili soluzioni. L'archivio di Sarmo è un centro studi che è stato fondato a Roma da noi, allora giovani ricercatori, 42 anni fa, quindi da sempre abbiamo questo nostro obiettivo di fare delle analisi delle situazioni di crisi e di guerra da un punto di vista il più possibile oggettivo con dati scientifici alla mano e su quelle costruire delle possibilità di soluzione e di alternative politiche e diplomatiche ai conflitti stessi. Questa è un'azione di divulgazione, di promozione non facile, specie in un paese come l'Italia dove devo dire non c'è molto una cultura della pace e della guerra, c'è una profonda propensione dell'opinione pubblica per la pace e soluzioni che non siano appunto belliche, che comportino gli enormi costi in termini di vite e di danni anche materiali che le guerre portano con sé, quindi c'è questa grande propensione a trovare delle soluzioni, però poi manca un dibattito su questo. La riprova è che in piena campagna elettorale sulle elezioni europee pochissimo si sente parlare in termini di sicurezza internazionale, ma anche di cooperazione internazionale e di alternative a questi due grandi conflitti, Gaza e l'Ucraina, che sono veramente a pochi passi da noi e che ci possono coinvolgere con conseguenze inimmaginabili per la loro gravità. Grazie. Grazie.